C'è un grande fermento nel settore dell'urbanistica al Comune dell'Aquila. L'assessore Daniele Ferella ha in animo di realizzare, prima della fine del suo mandato, alcune importanti infrastrutture che andranno a servire zone strategiche. Una delle zone maggiormente seguite con interesse è quella della stazione, per la quale già c'è stato un importante progetto di recupero messo in campo, stazione che si trova nei pressi di Borgo Rivera, una delle zone turistiche maggiormente appetibili della città. L'idea è rendere pedonale la parte sotto le mura, anche per un discorso turistico, abolendo il passaggio a livello nelle vicinanze e realizzando un ponte che andrà ovviamente concordato con la soprintendenza. Il tema fondamentale è quello di proseguire la viabilità, rendere pedonale la parte sotto le mura e quindi proseguire la viabilità sotto la stazione e abolire quello che è il passaggio a livello con un ponte che andrà ovviamente concordato in tutti quelli che sono i dettagli con la sovrintendenza, vista la delicatezza del luogo e che ospichiamo di poter chiudere almeno nella fase di piano di recupero nel più breve tempo possibile e così da poter partire, visto che ci sono stanziati già i soldi. Importante anche per rendere ancora più turistica quell'area, per togliere le automobili che anche oggi hanno un flusso molto importante lì? Assolutamente sì, intanto dividere la pedonalizzazione e quindi valorizzare la parte delle 99 cannelle, del Munda, insomma abbiamo un bel polo culturale diciamo sotto questo aspetto nella zona della Rivera e anche rendere più facile quello che è il traffico veicolare in uscita dalla città, soprattutto per coloro che vanno in direzione Roio piuttosto che in direzione Pianola. Grazie per la visione!